Finalmente è appena uscito un nuovo trailer, abbiamo un trailer per la seconda parte della quarta stagione dell'attacco dei giganti, è una vita che aspettavamo un trailer, un qualcosa, perché alla fine abbiamo avuto solo delle brevissime immagini, per quanto intense, alla fine dell'ultimo episodio della prima parte della quarta stagione. Il trailer sembra essere abbastanza breve, da quanto ho letto avremo una data alla fine di questo trailer, quindi sapremo con precisione il giorno in cui riprenderà l'attacco dei giganti con l'episodio se non sbaglio 76, e niente raga io sto troppo in hype, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere sto cavolo di trailer. Vai, spariamoci questo trailer. Ah partiamo così, partiamo con la bomba. Ok non approfondiscono la scena, questa per chi ha letto i manga è una bomba, non vedo l'ora di vederla tra l'altro in italiano, perché sta parte è qualcosa di assurdo, cioè cominciamo benissimo. Ok, un paio di clip della parte subito dopo della fine della quarta, tra l'altro, ragazzi la grafica è fatta davvero bene, guardate gli Elena qua, questa scena è bellissima. Tra l'altro l'hanno rifatta questa scena, perché c'era anche nel primo trailer. Madò che hype. Episodio 76, dateci una data, dateci una data. Ok. 9 gennaio, 9 gennaio, ok benissimo benissimo, poteva andare un po' peggio in realtà, perché il limite massimo era inverno, quindi febbraio. 9 gennaio, dai. Allora, il trailer è stato abbastanza breve, però anche abbastanza intenso, visto che aspettavamo un trailer, un qualcosa da un sacco di tempo. L'inizio è partito davvero col botto, chi vede solo l'anime non lo sa, ma chi ha letto il manga lo sa e come. Ok, io sono molto contento di questo trailer, soprattutto perché adesso c'è una scusa per ritornare a parlare dell'attacco dei giganti, che ultimamente se ne è parlato sempre meno. E il trailer di per sé mi rincuora su come sarà la seconda parte della quarta stagione, perché finora devo dire che è andato tutto benissimo, c'è un po' di CGI, ma non sembra fatta particolarmente male, quindi più che ok, la grafica era più che buona. Sì, saranno delle cose parecchio, ma parecchio complicate che qua non abbiamo visto, perché sono star spoiler da animare durante questa stagione, ma io sono fiducioso nello studio mappa. E niente, spero di cuore che da qua al 9 gennaio, quindi quando uscirà il primo episodio della seconda parte della quarta stagione, esca qualcos'altro, un altro trailer, magari un po' più corposo, come fanno i giapponesi, che ogni tanto escono dei trailer belli spoilerosi, belli carichi. Questo era un po' leggero, comunque meglio per gli anime only che non vogliono spoilerarsi troppo direi. E niente, direi che tutto, il trailer è stato molto breve, ma penso che sia più intensa la discussione che ne scaturirà, quindi fatemi sapere qual è la vostra opinione su questo trailer nei commenti, discutiamo un po' su quelle che sono le nostre prospettive per questa stagione imminente, quindi le nostre paure, le nostre speranze, quanto siamo in hype. E niente, lasciate un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi se non conoscete ancora il canale e andate a dare un'occhiata perché ci sono un sacco di video riguardanti l'attacco dei giganti. E niente, io vi saluto e ci vediamo nella discussione nei commenti.